Musica Mercoledì 6 marzo, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TRG. Tanta cronaca oggi in evidenza, cronaca che arriva dal tribunale, una brutta storia di violenza su colei che all'epoca dei fatti, ora il fatto è finito in tribunale, aveva solo 14 anni e poi parliamo di politica perché c'è la rivolta di quegli ex consiglieri regionali che non vogliono vedere tagliati i propri vitalizi, ma parleremo anche di un'intervista a Bocci che parla del futuro del PD, il segretario regionale del PD parla del futuro di questo partito all'indomani, tra l'altro anche dei risultati delle primarie. Questo in evidenza, le prime pagine dei quotidiani con il Corriere dell'Umbria che titola su un fatto di cronaca che finisce in tribunale. Infarto scambiato per mal di pancia, un 55enne è morto il giorno di Natale in ambulanza, era un cardiopatico, chiesto il rinvio a giudizio per due infermieri, in realtà venne trasferito all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia su un'autoambulanza non medicalizzata, si pensava che era una semplice gastroenterite, in realtà era un infarto. Il segretario del PD, io candidato governatore, mai questa la risposta a una domanda diretta, se nel 2020 sarà Bocci il candidato per la presidenza della regione dell'Umbria, e poi taglio dei vitalizi, gli ex consiglieri regionali, in rivolta l'associazione di chi percepisce le indennità, ha presentato un documento all'Assemblea legislativa in 100, temono le riduzioni, vedremo di che cosa si tratta. A Foligno è arrivata la notizia di Ivan Bianconi, questo ciclista che sta percorrendo l'Africa in bicicletta, che è stato aggredito proprio in Africa e poi oggi è una giornata importante per tanti, perché da oggi sarà possibile presentare le richieste per il reddito di cittadinanza, a parte un vero e proprio piano antifile, in particolare alle poste e ai CAF, dove si possono appunto presentare queste domande. La nazione, proprio su Ivan Bianconi, il 36enne in viaggio con la sua bicicletta, dedica la fotonotizia di apertura aggredito in Africa, è stato ferito e rapinato da predoni durante il suo viaggio da record in bicicletta. E poi dal tribunale, sesso con la minorenne a giudizio, nei guai un maestro di equitazione, all'epoca dei fatti la giovane aveva 14 anni. Assisi picchiato dal fratello e dall'abadante, un anziano malato, viveva un proprio inferno in famiglia ed ora sono stati accusati il fratello di lui e l'abadante. È solo una gastrite ma muore di infarto, finiscono a processo due infermieri del Santa Maria della Misericordia. Poi vedremo anche quali sono i redditi dei consiglieri regionali Umbri. Andiamo al messaggero che dedica l'apertura al pubblico impiego. La guerra è dei 300 mini dirigenti. In carichi in scadenza, scatta il maxi riassetto in regione, provincia e comune di Perugia. Con 400 parecchi se ne andranno in pensione. E allora c'è un vero e proprio turnover. Maxiris affontiveggia, allarme per un nuovo locale, apre un nuovo locale etnico e la popolazione teme che possa essere un vero e proprio nuovo incunambolo di delinquenza. E poi meteo pazzo, diluvio su Foligno, tre minuti di paura. In questo marzo che si sta preannunciando come un inizio di primavera, ieri è piovuto soltanto in una città dell'Umbria, tre minuti soltanto, con una forte pioggia, è accaduto a Foligno. E poi detenuto morto in ospedale, siamo ad Orvieto, sotto indagine 20 sanitari. Si tratta di medici e paramedici degli ospedali di Terni ed Orvieto che hanno assistito un detenuto del carcere di Orvieto, che poi purtroppo è deceduto. Ancora ad Assisi, traffico di droga, 14 nigeriani vengono presi dai carabinieri. A Perugia, caos volta, la provincia ci ripensa. Questo per le pagine in evidenza, l'home page del nostro sito internet www.trgmedia.it ci portano a Gubbio, si va verso la riconferma del piano di sicurezza che l'anno scorso ha funzionato durante la giornata della festa dei Ceri, una riconferma che nasce appunto dalla buona riuscita del 15 maggio 2018. Andiamo alle pagine di interesse regionale, ripartiamo dal Corriere dell'Umbria perché abbiamo detto che da oggi scatta la possibilità di presentare la domanda per il reddito di cittadinanza. Sono 40.000 gli Umbri che potrebbero essere interessati da questo provvedimento e ovviamente ora c'è la preoccupazione, scattano i piani antifile. Dove si può fare la domanda? Vi diamo qualche informazione online sul sito www.redditodicittadinanza.org oppure può essere presentata alle poste o ai CAF. La domanda dovrà essere verificata dall'Inps e solo in caso di esito positivo si potrà accedere al percorso formativo e alla ricerca attiva di lavoro presso i centri per l'impiego. Ovviamente si avrà poi il contributo di 780 euro, diciamo questo è il minimo, in particolare 780 euro è per una persona adulta di cui 500 euro per vivere potremmo dire così e 280 euro di contributo per l'affitto, quindi l'assegno di 780 euro che viene caricato su una carta si avrà soltanto dopo l'accettazione della domanda. Ma quanto si può arrivare a prendere con il reddito di cittadinanza? Abbiamo detto se si è una persona adulta che vive da sola e che non ha casa si arriva a 780 euro se sono due persone adulte, una coppia di coniugi per esempio, allora si arriva a 980 euro di cui sempre una parte come contributo affitto. Se si ha per esempio un figlio si arriva a 880 euro in generale il contributo maggiore che si può raggiungere è di 1330 euro nell'ipotesi in cui il nucleo familiare sia composto da 5 persone, 3 adulti e 2 figli under 14. Ma ovviamente la preoccupazione in queste ore è il pericolo intasamento, l'intasamento non solo alle poste e ai CAF ma anche ai centri per l'impiego dove si va anche a chiedere informazioni e quindi scattano, lo vedremo anche nei prossimi quotidiani, l'argomento viene trattato, anche delle soluzioni per difendersi. Parliamo di politica, c'è un'intervista oggi del Corriere al segretario del PD dell'Umbria, Bocci, al quale viene chiesto se nel 2020 potrebbe essere lui il candidato alla guida della Regione. Non sta né in cielo né in terra, questa è la sua risposta. E poi c'è la carica, potremmo dire così, degli ex consiglieri regionali. Sappiamo infatti che c'è in programma il taglio dei vitalizi agli ex consiglieri regionali, è il cosiddetto decreto fico che è stato applicato anche alla Camera. Ebbene, questo decreto riguarda 100 persone in Umbria che nella totalità ricevono 287.959 euro annui e che sono in rivolta, non vogliono il taglio del vitalizio, lo ritengono anticostituzionale. E poi, scusate la tosse, ma davvero quest'oggi purtroppo è così, parliamo di viabilità E45 ok agli ammortizzatori sociali. Il Ministero si impegna per la cassa in deroga per tutte quelle attività che hanno avuto danni dal blocco della E45, nessuna garanzia per il riconoscimento di emergenza nazionale. Intanto il 23 marzo ci sarà la protesta dei TIR, sabato 23 marzo andranno pianissimo proprio sulla E45 nel tratto che gli è consentito per protestare contro la chiusura della E45 ai veicoli di portata superiore alle 3 tonnellate e mezza. Ma domani c'è un'altra protesta, è quella che riguarda le ditte che ancora debbono avere i soldi per la costruzione della Perugia Ancona, domani scenderanno in strada. I sindacati però non parteciperanno alla protesta, chiedono piuttosto un tavolo. Questo per il Corriere. Andiamo alla Nazione, le sue pagine di interesse regionale, ci parlano di cronaca, brutta cronaca, maltrattano il malato, un fratello di un signore di oltre 60 anni, 62 esattamente, e la badante di questi finiscono sotto accusa, avrebbero in più di una volta, in più di una situazione, maltrattato l'uomo. Ci sono anche i filmati dei sorprusi. Ora l'uomo è stato ricoverato in una residenza protetta ad Assisi e ovviamente per il fratello di questi, la badante, scatta la denuncia. Un'anziana vessata e picchiata, la colfa, è stata condannata a due anni e due mesi di reclusione. Accade anche questo, il fatto risale a qualche tempo fa ed ora è finito in tribunale. a testimoniare i soprusi, anche le telecamere che i militari installarono nella abitazione della signora. Quest'altra storia di cronaca riguarda un Umbro, parliamo infatti di Ivan Bianconi, un 35enne di Santa Maria degli Angeli, che in sella alla sua bicicletta sta cercando di, come dire, vincere, no, vincere non proprio, di dimostrare qualcosa a se stesso e al mondo, la sua volontà di scoprire il mondo in bicicletta, in questo momento sta attraversando l'Africa, ma è stato vittima purtroppo di un brutto incidente in Ghana. è stato infatti aggredito, tenuto in ostaggio per oltre un'ora in un villaggio, a circa 110 chilometri dalla capitale Accra, e soltanto dopo un'ora è stato rilasciato. Per lui davvero un momento di paura, se non addirittura terrore. E poi, ve l'abbiamo già letto, il caso arriva dal Santa Maria della Misericordia, il giorno di Natale, un uomo si viene ricoverato per una gastroenterite, in realtà muore di infarto. Ed ora, ovviamente, c'è il giudizio che coinvolge, nel caso specifico, due infermieri. Ancora, sempre dal tribunale, la storia terribile di un maestro di equitazione. Violenza, il maestro a giudizio. Il fatto risale, in realtà, a qualche anno fa, direi a molti anni fa, ma è venuto a Galla soltanto recentemente, un maestro di equitazione che ha abusato più di una volta della sua allieva, una quattordicenne, che soltanto dopo essere diventata maggiorenne, essere andata all'università e avere rivisto quest'uomo avvicinarsi a lei, ha deciso di denunciare i terribili fatti. Ed ora tutto va in tribunale. L'Università di Perugia è alla ricerca del nuovo rettore. Elena Stanghellini, professoressa di Statistica, è una delle candidate e in questa intervista racconta la sua ricetta per l'università. Anche la Nazione ci ricorda che oggi è il giorno in cui si può presentare la domanda per il reddito di cittadinanza. E poi c'è anche, alla vigilia, verrebbe da dire, della festa della donna, il report dell'IRES sulle donne e il lavoro. Le donne sono penalizzate di soccupazione al femminile oltre il 10%. La Nazione oggi ci svela anche quali sono i redditi dei consiglieri regionali e dei assessori regionali. Ebbene, Maria Grazia Carbonari, del Movimento 5 Stelle, è la più ricca dei consiglieri regionali. La sua denuncia dei redditi 2018 parla di 159 mila euro. Invece, tra gli assessori, il più ricco è Barberini. L'assessore, infatti, nella sua dichiarazione dei redditi 2018, ha un reddito lordo di 206 mila euro. Intanto, proprio in consiglio regionale, la Lega chiede l'UMI alla regione, FCU, ma quando iniziano i lavori? Ancora per la politica andiamo al PD, ripartenza con testa e cuore. Il segretario regionale Bocci dice, primarie, grande prova di democrazia. Ancora per le pagine della cultura vi segnaliamo che questa sera, alle ore 21.15, ad Assisi, c'è l'Ello Arena, che presenta i parenti serpenti, ovviamente all'Iric, e sempre stasera al Morlacchi, dunque siamo a Perugia, una bisbetica domata tutta da ridere, con protagonisti tutti al maschile. Questa era la Nazione. Le pagine regionali del messaggero ci parlano di pubblico impiego, perché con quota 100 sono tanti coloro che andranno alla fine in pensione, quindi è possibile che nascano 300 nuovi mini dirigenti, regione, provincia e comune di Perugia in evidenza. Anche il messaggero ci ricorda che l'Università va al voto con un'intervista ad una possibile e papabile rettore, la professoressa Stanghellini. Questo per le pagine in evidenza. Andiamo alle pagine locali, in particolare ripartiamo da Perugia. Alcune notizie in realtà le abbiamo già viste, quindi andiamo rapidamente, come quella dell'infarto scambiato per il mal di pancia, ha costato la vita ad un 55enne e che fa finire sotto accusa due infermieri del Santa Maria della Misericordia. E poi questa notizia di cronaca, i nove finiscono a giudizio, avevano sottoscritto falsi contratti per sfruttare i clandestini. E poi, violenta per sei anni l'allieva minorenne, maestro di equitazione a processo, ve l'abbiamo raccontato, i fatti risalgono al 2007. E ancora, parliamo di università, l'Ateneo per attirare studenti si allea con Euro Chocolate e Umbria Jazz all'Open Day di Unipeg, ci sono anche informazioni e collegamenti dell'università con questi due importanti e popolari appuntamenti culturali. Andiamo sull'area del Trasimeno, siamo a Magione, riapre il ponte sul Caina, c'è pure un passaggio pedonale, e poi a Città della Pieve per le case popolari cambia il calcolo del punteggio. Ancora, Passignano sul Trasimeno, cacciatori incontrano due lupi a Crocicchie. Andiamo nell'Assisate, dove crescono i dati della differenziata, ma crescono anche i rifiuti abbandonati. A Bastia Umbra ricorderete la partita di calcio tra Bastia e Foligno il 6 aprile del 2014, dove un Folignate rischiò di morire per una sassaiola che si era scatenata fuori dallo stadio. Ebbene, ora si va in aula, rissa fuori dallo stadio, sembrava una guerra. Ieri hanno testimoniato i poliziotti intervenuti. Andiamo a Todi, dove inizia in qualche modo l'anno dedicato all'artista americana Beverly Pepper. Ricordiamo che dal 6 aprile al 12 maggio ci sarà una mostra proprio dedicata a questa importante artista americana, che di Todi ha fatto la sua casa d'adozione e ieri c'è stata l'anteprima dell'installazione di una delle sue più celebri opere, le Todi Columns. Andiamo a Città di Castello. Peter Agì Dimpeto, 14 anni, la pena giusta. Parliamo di un fatto che è accaduto nel 2016, la morte di Katia De Lomarino, per la quale sconta la pena l'alto tiberino Peter Polverini, che appunto viene condannato a 14 anni di reclusione. Andiamo a Città di Castello, siamo esattamente nel quartiere San Giacomo. Viene scippata una ottantenne ed è il terzo caso, l'ottavo caso, scusate, in tre mesi. Alla donna è stata strappata la borsetta che portava al braccio. Dimissioni di Zucchini a Città di Castello, il PD convoca la segreteria comunale e poi l'acqua di Montedoglio diventa potabile. Il costo dell'impianto all'avanguardia, che sorge a Greppalto, sfiora i 5 milioni di euro. Ad Umbertide, giudo a scuola media per combattere il bullismo, il progetto coinvolgerà 150 ragazzi delle prime classi. E poi ancora da Umbertide, Civica e PD contro la Giunta, nel bilancio ci sono taglie ai servizi e forte aumento delle tasse. Andiamo a Gubbio, in Via Da Vinci, caos senza fine sulla ciclabile, nonostante la strada sia quella con più incidenti in città e la situazione sia segnalata, i controlli non si vedono. In Piazza Grande si rivede Don Matteo, ma è Panariello che mette in scena una scenetta appunto, scusate il gioco di parole, e poi tutti gli appuntamenti dedicati alla festa dell'8 marzo. A Gualdotadino, pronto intervento dedicato ai minori, due operatori reperibili 24 ore su 24, interverranno per aiutare gli under 18 in difficoltà. È un progetto della zona sociale 7. E poi, presentata la terza edizione di Montagne in Movimento, promossa dal CAI, si comincia il prossimo 24 marzo con una camminata alla Cava del Ferro, il titolo della camminata è Il Ferro di Pio Nono. Ancora dal territorio di Nocera, i vigili del fuoco demoliscono un vecchio muro. Andiamo a Foligno, prosciuga i conti postali, l'accusa di furto, il fatto, lo ricorderete, risale a nove anni fa, quando una dipendente dell'ufficio postale venne accusata di aver preso soldi dai correntisti, cambia l'imputazione nei confronti della dipendente, finita processo per aver sottratto ai clienti, qualcosa come 750 mila euro. A Foligno, la scommessa della ITS Academy, l'80% degli studenti trova lavoro, è una scuola post-diploma. Statua dell'alunno a Foligno senza pace, scritte offensive sul suo basamento e poi per la politica, in consiglio, passaggio di testimoni, c'è Zuccari al posto di Schiarea. Andiamo a Spoleto, via la rivoluzione delle case popolari, vantaggi per chi vive da 15 anni in città, e ancora spedisce agli amici le fotografie hard della ex, il caso finisce in tribunale. Ex cementir forni spenti e 130 posti di lavoro in bilico. Ancora a Spoleto, in questo fine settimana, c'è lo sbaracco, tre giorni di saldi fino all'80% nelle 70 attività del centro che hanno aderito. Andiamo al territorio di Terni, in particolare parliamo di Arpa, sette addetti per tutta la Conca, secondo Palazzo Spada, sono davvero pochi, chiede Palazzo Spada che la direzione generale di Arpa sia trasferita proprio a Terni, viste le sue problematicità in termini di qualità ambientale. Andiamo alla Nazione, le sue pagine locali, in particolare ci soffermiamo nel territorio prima del Trasimeno, eccoci qua, e poi andiamo nei territori dell'Assissate, Trasimeno, l'attenzione è rivolta a Castiglion del Lago, parco naturale, servono regole meno rigide, le associazioni di categoria intervengono su questo strumento di tutela. A Città della Pieve, più di 100 in corsa per un posto da operaio comunale. Ad Assisi, la rotatoria di via Ermini, partono i lavori e poi a Todi è sparito il lascito di Pupella Maggio, parla Silvano Spada che dice sono sgomento. A Gubbio, la città celebra Guido Bonarelli, il geologo che studiò la gola del Bottaccione, appuntamento sabato 9 marzo. A Gualdo, l'associazione confraternita di misericordia presenta una iniziativa di solidarietà dal titolo Cuore Vivo. A Gualdo Tadino, l'architetto Nello Teodori invece presenta un progetto che si chiama Le Vie dell'Acqua. A Gubbio, Ubaldo Cecilioni è ambasciatore mondiale dello sport e sempre a Bubbio un bosco divorato dal fuoco, 10 ore di lavoro per i vigili del fuoco. A Città di Castello, in comune, scoppia la bufera nel PD dopo le primarie, Zucchini lascia la guida del gruppo consigliare. E poi, sulla E45 c'è un incontro a Roma, ma il ministro non si presenta e poi ad Umbertide parlano PD e la lista civica il comune aumenta, l'IRPEF attaccano dunque l'amministrazione comunale sul bilancio preventivo. Ancora dalla Nazione ci spostiamo nel territorio di Foligno, ai giovani serve lavoro ma anche dignità, lo dice la Diocesi che coinvolge gli imprenditori e gli studenti per fare il punto sull'occupazione e poi premiata Rossella Tonti che è ufficiale al merito della Repubblica e per il gas naturale nella rete locale è finito il primo metro cubo di biometano. La produzione a regime sarà di 4 milioni di metri cubi l'anno. Rifiuti a Trevi chi differenzia male paga di più, il comune pilota per la tariffazione puntuale e poi da Spoleta abbiamo visto che l'argomento oggi è la ex cementir scattato lo stato d'agitazione. Chiudiamo da Terni a Paltopoli prima udienza il 15 aprile nuovo giudice per il caso che portò ai domiciliari l'ex sindaco di Girolamo. Andiamo al messaggero con il quale chiudiamo le pagine di cronache d'attualità da Perugia un quartiere si mobilita per i giochi dei bambini siamo a Montebello a Fontibegge un nuovo locale etnico invece fa scattare l'allerta si teme che possa diventare un luogo di aggregazione di malavita e poi a Ponte San Giovanni e allarme per i furti una ragazza si è trovata faccia a faccia con i balordi abbiamo già letto le pagine di interesse regionale del messaggero andiamo ad Assisi smantellata la via della droga sono stati arrestati 14 nigeriani i carabinieri hanno sequestrato un chilo e mezzo di eroina gli stranieri sono stati bloccati anche a Spoleto Perugia e Reggio Emilia ad Assisi Lampada della Pace a Redi Giordania a San Francesco anche Conte e la Merkel e poi a Todi il grido d'allarme i lasciti di Pupella Maggio sono spariti si scava nei magazzini per capire dove possano essere finiti a Gubbio sosta per disabili controlli su chi ruba i posti ad Umberti della Giunta sotto attacco le opposizioni dicono che sono state aumentate le tasse senza un criterio a Castello Case Popolari c'è un nuovo regolamento andiamo a Foligno dove ieri in una giornata che in realtà ha visto il sole un po' in tutta l'Umbria c'è stato un diluvio lampo che ha messo paura pioggia e grandine da record l'unica zona d'Italia colpita dal rovescio e poi il biometano l'abbiamo visto il primo metro cubo è stato prodotto grazie ai rifiuti e ancora con il progetto Erasmus un gemellaggio con quattro paesi a Villa Fabri di Trevi due giorni con il Darwin Day e poi anche il messaggero ci ricorda l'udienza per quegli scontri fuori dallo stadio durante la partita Bastia Foligno un poliziotta ha detto era una vera e propria guerra a Spoleto c'è preoccupazione per l'ex cementir o si vende o si chiude a Terni un meglio ancora il detenuto era di Orvieto detenuto morto in ospedale 20 indagati si tratta di personale medico e paramedico degli ospedali di Terni e Orvieto che sono finiti finiranno davanti al giudice per la morte di un detenuto del carcere di Orvieto ci fermiamo solo per qualche momento e poi parleremo di sport la giudice è